Che singolare mistero nel ricordo Si cammina, si cammina per le strade al primo sole di maggio E improvvisamente cose ormai dimenticate Riaffiorano alla memoria come se in essa si spalancassero porte chiuse da tempo Se ne vanno E altre le seguono e vi fanno rivivere ore passate Ore lontane Perché questi improvvisi ritorni verso il passato? Chissà Un odore nell'aria Una sensazione così leggera che neppure si percepisce Ma che un nostro organo riesce a riconoscere Un privido Perfino un effetto di sole che batte sugli occhi Un rumore, un niente che ci ha sfiorato in circostanze passate E che ora ritroviamo È sufficiente a farsi rivivere? All'improvviso Un paese, gente Avvenimenti cancellati dalla nostra memoria Perché un soffio d'aria carico di odori di foglie Sotto gli ippocastani degli Champs-Élysées Evoca improvvisamente una strada Una grande strada Lungo la montagna in Auvernier A sinistra A sinistra, tra due cime Appare il cono maestoso e pesante del Puy de Dom Intorno a quel gigante, più o meno lontano S'innalza un popolo di picchi Molti fra questi picchi sembrano truncati Sono quelli che una volta sputavano fiamme e fumo Ora sono vulcani spenti E i loro cratari morti sono diventati laghi A destra, la strada domina una pianura sconfinata Cosparsa di paesi e città È la bassa e boscosa regione chiamata Limagne Più si va in alto, più si vede lontano Fino ad altre cime laggiù Le montagne di Forest L'orizzonte è smisurato Lo vela a un vapore lattiginoso, dolce, chiaro Laggiù, l'auvernier è di una bellezza infinita Nella nebbia trasparente Noci enormi ai lati della strada La riparano quasi interamente dai raggi del sole Castagni fioliti I cui grappoli più chiari delle foglie Sembrano grigi nel verde scuro Ricoprono le pendici dei monti Di tanto in tanto, sulla vetta di una montagna Appare un vecchio castello in rovina Questa terra era cosparsa di castelli Uno simile all'altro Al di sopra di un'ampia costruzione quadrata E con i merli Si innalza una torre Non ci sono finestre ai muri Ma soltanto dei fori quasi invisibili Si direbbe che fortezze come questa Siano spuntate sulle alture come funghi in montagna Sono di pietra grigia Che non è altro che lava Lungo i sentieri Incontri sempre vatti a coppie Che tirano carri con grandi carichi di fieno Le due bestie vanno lentamente Giù per le scese e su per le impervie salite Trascinando o trattenendo l'enorme carico Davanti a loro cammina un uomo Che regola il passo delle bestie Con una lunga pertica Toccandole di tanto in tanto Non accade mai che le percuota Piuttosto sembra che le guidi Con i movimenti della sua pertica Come un direttore d'orchestra Il gesto con il quale comanda la bestia È grave Spesso si volta per far intendere alla bestia la sua volontà Non si vedono mai cavalli Fatta eccezione per quelli delle dirigenze E delle vetture a nolo Quando fa caldo La polvere delle strade che si alza sotto il vento Porta un sentore dolciastro Che fa pensare alla vaniglia e alle stalle Tutto il paese è profumato dagli alberi Le viti appena sfiorite Mandano un sentore dolce Squisito I castagni, le acace, i tigli, gli abeti Le fienagioni e i fiori selvatici dei fossati Caricano l'aria di profumi leggeri e persistenti Louvernier è un paese di malati Tutti i suoi vulcani spenti Sembrano caldaie chiuse Nelle quali si scaldano ancora Giù Nel ventre della terra Acque minerali di ogni specie Da questi pentoloni nascosti Escono sorgenti calde Che a stare a certi medici non disinteressati Contengono medicamenti adatti a tutte le malattie In quelle stazioni termali Che si raggruppano intorno ad ogni ruscello tiepido Scoperto da un contadino Si svolge una grande quantità di scene incredibili Da prima c'è la vendita della terra da parte del contadino Quindi la formazione di una società con il capitale Naturalmente fittizio di qualche milione Poi la miracolosa costruzione di uno stabilimento Con questi fondi resistenti e con pietre vere Infine l'insediamento del primo medico Che assume il titolo di ispettore medico E l'apparizione del primo malato Che precede l'eterna Sublime commedia tra il malato e il medico Ogni città termale è per un osservatore La California della comicità Ogni dottore è un tipo singolare C'è quello corretto all'inglese Che porta la cravatta bianca C'è quello scettico, spiritoso e maligno Che svella agli amici i sistemi E i trucchi del mestiere Oltre a questi due tipi C'è anche il dottore paterno e bonario Il dottore scientifico Il dottore brutale Il dottore per signore C'è quello che porta i capelli lunghi Quello elegante E ce ne sono tanti altri ancora Ogni tipo di medico Trova infallibilmente il proprio tipo di malato La sua clientela di ingenui Tutti i giorni Tra questi ultimi Nelle stanze dell'albergo Si ripete la meravigliosa farsa Che Mogliar non ha scritto per intero Se quei medici parlassero Che osservazioni Che documenti meravigliosi Potrebbero darsi sull'uomo Talvolta Dopo aver bevuto Raccontano un'avventura Una delle mille Uno di questi medici Molto spiritoso Ebbe il lampo di genio Di annunciare sui giornali Che le acque di B Inventate da lui Prolungavano la vita dell'uomo Non c'era nessun mistero Nel loro effetto Quel medico lo spiegava scientificamente Con gli effetti dei sali Dei minerali E dei gas Sull'organismo E in proposito Aveva anche scritto Un lungo opuscolo Nel quale oltretutto Erano descritte Le passeggiate Nei dintorni Occorrevano tuttavia Delle prove Sicché quel medico Fece un rapido viaggio Alla ricerca Di centenari Le famiglie Dei poveri Che solitamente Non tengono molto Da dar da mangiare Ai vecchi genitori Inutili Gli scedevano Per sei mesi all'anno E lui li sistemava In una villa elegante Che aveva nominato Ospizio dei centenari Non tutti gli ospiti Avevano cento anni Ma non gli mancava molto Quella era la sua pubblicità Una pubblicità fantastica Guarire Non è niente Vivere È tutto Le sue acque non guarivano Facevano vivere I fegato I bronchi La laringe I reni Lo stomaco L'intestino Che importanza hanno Quello che conta È vivere Questo grand'uomo In un giorno di allegria Raccontò la seguente avventura Una mattina Un nuovo arrivato Lo mandò a chiamare Era il signor Dei Che giunto la sera avanti Aveva preso in affitto Un padiglione Proprio vicino Alla sorgente sovrana Era un vecchietto Di 86 anni Ancora in gamba Asciutto Ben portante Svelto Che ne faceva di tutte Per nascondere La propria età Fece sedere il medico E subito lo interrogò Dottore Se io sto bene in salute Lo devo all'igiene Non sono vecchissimo Ho soltanto una certa età Con l'igiene Evito tutte le malattie E tutte le indisposizioni Financo i più leggeri malesseri Voi dite che il clima Di questo paese È molto vantaggioso Per la salute Non ho nessuna difficoltà A crederlo Ma prima di sistemarmi qui Voglio le prove Dunque vi prego Di venire da me Una volta alla settimana Per darmi con scrupolosa esattezza Le seguenti informazioni Primo Vorrei avere la lista completa Veramente completa Di tutti gli abitanti Della città E dei dintorni Che abbiano superato L'età di 80 anni Secondo Vi sono necessari Tutti i particolari Fisici e fisiologici Che li riguardano Vorrei poi conoscere La loro professione Il genere di vita Che conducono E le loro abitudini Ogni qualvolta Uno di essi morirà Mi dovrete avvisare E mi dovrete dire La causa precisa E le circostanze Della sua morte E gentilmente Soggiunse Spero Dottore Che diventeremo Buoni amici E tese La sua piccola mano rugosa Che il medico Strinse Promettendo Il suo aiuto devoto A cominciare A cominciare dal giorno In cui ebbe l'elenco Dei 17 abitanti Del paese Che avevano superato L'età di 80 anni Il signor D Sentì che nel suo cuore Si ridestava Un enorme interesse Un'infinita Solvecitudine Per tutti Quei vecchi Che avrebbe visto Morire Uno dopo l'altro Non li volle conoscere Temendo di trovare Qualche rassomiglianza Tra se stesso E qualcuno Di quelli Destinati a morire Entro poco tempo La cosa Gli avrebbe fatto Troppo male Ma si fece un'idea Assai precisa Delle loro persone E non parlava Che di loro Col dottore Il quale andava A pranzo da lui Tutti i giovedì Chiedeva Dunque dottore Come sta oggi Pinshò Una settimana fa Lo abbiamo lasciato Un po' malazzato Quando il dottore Gli aveva fatto Il bollettino medico Del malato Il signor D Cominciava a proporre Modifiche alla dieta Nuovi trattamenti Da sperimentare Tutte cose Che avrebbe potuto Applicare a se stesso Ammesso che sugli altri Avessero dato Buoni risultati E i diciassette vecchi Erano per lui Un terreno sperimentale Da cui trarre Insegnamenti Una sera Il dottore Entrando Annunziò È morta Rosalie Turol Il signor D Sussultò E subito chiese Di che cosa? Di angina? Il vecchietto Mi se fuori Di sollievo Disse Era troppo grassa Troppo forte Doveva mangiare troppo Quella donna Quando io avrò la sua età Starò più attento Lui era più vecchio Di due anni Ma non ne confessava Che settanta Qualche mese dopo Venne la volta Di Henry Brissot Il signor D Fu molto emozionato Il signor Brissot Era un uomo magro Esattamente Della sua età La differenza Era di appena tre mesi E molto prudente Il signor D Non osava far domande E se ne stava lì Preoccupato Aspettando che il dottore Parlasse È morto Come? Tutto a un tratto La settimana scorsa Stava benissimo Avrà commesso Qualche imprudenza Vero dottore? Il dottore Che si divertiva Dispose Non credo I suoi figli Mi hanno detto Che era sempre stato Alle regole Allora Tremante d'angoscia Il signor Di che non ne poteva più Domandò Ma Ma Di che cosa è morto Allora? Di pleurite Fu una gioia Una vera gioia Il vecchietto Si mise a battere le mani Perbacco Ve lo dicevo io Che aveva commesso Qualche imprudenza Non ci si brusca Una pleurite così Senza motivo Avrà voluto prendere Un po' d'aria Dopo pranzo E si sarà preso Freddo al petto Pleurite Si tratta di una disgrazia Non di una malattia Bisogna essere pazzi Per morire di pleurite Cominciò a mangiare Tutto allegro Parlando di quelli Che rimanevano Ora sono soltanto 15 Ma Sono forti Non è vero La vita è così I più deboli Cadono per primi Quelli che superano I 30 anni Hanno buone probabilità Di arrivare ai 60 Quelli che vanno Oltre i 60 Arrivano spesso Agli 80 Quelli che superano Gli 80 Raggiungono quasi sempre Il centinaio Perché sono i più robusti I più saggi E i più temprati Altri due Se ne andarono In quell'anno Uno morì Di dissenteria Un altro Di un colpo La morte del primo Diverti molto Il signor D La dissenteria È un male Degli imprudenti Che diamine Voi dottore Dovevate stare Più attento Alla sua dieta Quanto a quello Che se ne è andato Per un colpo Quanto a quello Che se ne è andato Per un colpo Si doveva trattare Senz'altro Di una malattia cardiaca Fino a quel momento Trascurata Ma una sera Il dottore Annunciò Il trapasso Di poltimo Ne Una specie Di mummia Che si sperava Di sfruttare Come centenario Reclam Per la stazione termale Allorché il signor D Secondo il solito Domandò Di che cosa è morto Il medico rispose Non lo so Parola mia Come non lo sapete Si sa sempre Aveva una qualche Lesione organica Il dottore Tentennò la testa No Nessuna Aveva disturbi al fegato Oppure ai reni No no Era sano Avete visto bene Se lo stomaco Funzionasse regolarmente Spesso può capitare Che una cattiva digestione Provochi un attacco Non ha avuto Nessun attacco Il signor D Molto perplesso Si agitava Ma Vediamo un po' Di qualche cosa Deve essere pur morto Insomma Di che Secondo voi Il medico alzò le braccia Non lo so Non ne so proprio niente È morto Perché è morto Ecco tutto Il signor D Allora Con voce emozionata Chiese Che età aveva Precisamente Non me lo ricordo più Ottantanove anni E il vecchietto Con aria incredula E rassicurata Gridò Ottantanove anni Allora Non è morto Neppure di vecchiaia . . . .